Sono prevalentemente italiane, sono nel 2015 più o meno un 70% italiano e un 30% straniere, vittime di vari tipi di violenza, sia fisica, psicologica, economica, nella prevalenza dei casi da parte di ex mariti, mariti, persone che hanno una relazione affettiva con loro. Quello stilato da Laura è l'identikit di chi si rivolge al centro antiviolenza dell'Associazione Pronto Donna, attiva da oltre 30 anni nel territorio aretino. Per conoscere e farsi conoscere, per descrivere al territorio tutte le attività di questa associazione, è stato organizzato un evento Muse in Canto, un concerto del gruppo musicale I Cantori di Silvia. Sì, domani pomeriggio, il 16 aprile, alle 17 al Teatro Vasariana, ci sarà questo evento organizzato dall'Associazione Pronto Donna, Muse in Canto, che è un evento, speriamo, il primo di una lunga serie per la promozione della situazione a livello territoriale, per la sensibilizzazione rispetto alla tematica della violenza sulle donne, e anche per la raccolta fondi a sostegno dei servizi che sostengono le donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza.